E' un riporto della serialona Viene, viene che non mi sembra una deliciosa E' un riporto della serialona E' un riporto da' arat! Spera, bine! O sa fac iar Hei...Clic Il vellea si care țipa et noi Sper aici na-ti face glicea, de ce bine Bine, cu s資制ata calea Sì sicur che potrebbe essere vinti per il lucro di questo chitorio. Con sicuranza... ...e un'idea con cui crede che potrebbe essere sperimenti, ma non possiamo sperimenti perché è curaiosi. Aggi è. Poi, questo non significa che possiamo sperimenti. Il risultato è sperimenti in un modo molto più infriciore. O, ma non speriment, ma sperimenti. Do per ora interina! O, buona! E un'o'cena, sunt a fase raffurmaază, fraffamaază. O, ce-i aia? E un'astaico che facere la mia voce a scoperto. Se che sino? Si ci sono? Non è proprio... Non stiu... Bine, trebuie sa mergem. Non conteaza. O sa fac... O... N sa am nevoie de fai, nici de aia. Si ce mai face? Acum... Si you? Hei! Buna, Poppy! O, cred ca... Aaa! M-ai speriat, Luca! O, n-am vrut. Bine! Hei! Ce faci? Am un experiment. Pot sa... Impla ce stiinta. O, cu siguranta faci ceva care... Hai! E! Luca! Ce-ai facut? Cred ca mi-e spaci totul. Asa e ca spaci totul, spaci mereu. Cu siguranta n-am nevoie de fai. Pa! Un popic. Un popic. Un popic. Un popic. Un popic. Ce faci? Incecam sa fatti cum pictez. Doar pictam ceva. Un popic. Un popic. Un popic. Un popic. Un popic. Un popic. In pare rau. Un alt atent. Un alt atent. Un pepturile. Dar pot sa plec. Vai. Poate ca Mă duc alt atent. Hei, ghei. Hei, ma poti ajuta a chi? Oh! Inca pa' tutta aventura! Oh, hei! Hei, panna poti! Panna! Oh, con sicuranta sunte-ti bine! Un e un suchit! Cum adica? Poi... Con sicuranta un suchit! Oh, uite! E ghin! Ai grijă ce faci! Bine! Eu deja am cazut! Uh! Ce frumos e legat-o legale! Uh! Uh! Pot sa fac asta? Ah! Ce-am facut? Trebuie sa pleca! Da, da, da! Ce-am facut! Ce-am facut! Ce-am facut! Ah! Ah! Panna! Ah! Oh! Hei, Luca! Mai suchiti? Sigur ca nu mai suchit! Nu mai suchiti! Nu mai suchiti! Stai! Nu mai suchiti cand vorbesti! E in regula! Esti in normal la normal! La normal? Te-am speriat si esti bine! Ura! Mersi, Poppy! Dintr-o speritura? Dintr-o una! Wow! Ai speriat-o ca sa se vindeca la normal! Oh! Sigur ca se vindeca la normal! Mersi, Poppy! Esti cea mai buna prietena mea! Mereu impreuna! Mereu prietena mea! Si tu! Cel mai bun prieten pe care il lasi avea! Cel mai bun prieten? Da!